Ciao, sono Elisabetta Roetta, 50 anni, sono nata, vivo e lavoro a Montegrotto. Il mio lavoro mi mette continuamente a contatto con le persone e per questo ho imparato ad ascoltare. Proprio per questo, all'interno dell'amministrazione, vogliamo creare un nuovo settore sociale che sia un punto di riferimento certo per i cittadini e che dia risposte adeguate ai loro bisogni. In particolare, attento ai soggetti più fragili, ai bambini, agli anziani, alle persone con disabilità. Se vuoi dar forza a questa iniziativa, il 5 giugno vai a votare. Vota Nuova Montegrotto Elisabetta Roetta.